l'otto 180 sono circa 500 cartoline un periodo 1940 80 quindi lucidi fondamentalmente bianco e nero e a colori un po di tutto il mondo io qui vado veloce perché il video dura tantissimo c'è italia c'è francia egitto russia insieme molto misto come potete vedere quasi tutte viaggiate questa è valencia per esempio c'è pure qualche urale questa è messina questa genova c'è pure qualche intero postale nel mezzo san marino londra roma trieste c'è pure qualcosa di piccolo formato è una miscellanea un misto probabilmente da archivio di famiglia perché più o meno sì 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 archivio di famiglia sì era un farmacista quindi riceveva corrispondenza da tutto il mondo sono anche così carine ovviamente non ve le faccio vedere una tutta una alla volta perché veramente il video dura tantissimo è giusto per dare un'idea di quello che c'è molto assortito come potete vedere c'è dalla pittura arte bambini bambini animal illustrate varie fotografiche è praticamente tutto viaggiato queste hanno pure il francobollo davanti stile cartoline maximum qua Castallo e Mare di Stabbia Sto vedendo Napoli Roma Milano sempre Augurali Maiori o Maiori Passo San Giorgio Franciano Napoli Roma questa è bellina perché c'è tutto infatti si vede che è luccicante faccio i castelli dipinti manziata del ballo non 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 Grazie a tutti. C'è anche roba un po' più moderna ovviamente, ma inoltre ho nel lotto scritto con cartolina grossomodo fino al 1980. Le date le ho prese dagli annulli postali, dalle affrancature. Grazie a tutti. Qua dov'è? Questo è il mizzo. C'è una cartolina anche dall'Oriente. Grazie a tutti. Se avete altri video o informazioni, iscrivetevi a filateliachiocciola4baiocchi.com